È stato individuato un caso di positività al Covid-19 tra le persone rientrate in provincia di Sondrio dopo aver trascorso le vacanze in uno dei quattro paesi sorvegliati speciali, quindi Spagna, Croazia, Grecia e Malta. 65 tamponi refertati fino a questo momento fa sapere ATS della Montagna che con il suo dipartimento di prevenzione è impegnata su questo fronte. Il turista risultato positivo ha trascorso le vacanze in Spagna. Aumentano le persone che si rivolgono a ATS della Montagna per comunicare il proprio rientro dai quattro paesi sorvegliati e a rischio. Devono renderlo noto compilando online il modulo che si trova sul sito di ATS. Per comunicazioni si deve utilizzare la mail rientri.estero-atst-montagna.it oppure comporre il numero 0342 555 713 da lunedì a venerdì dalle 9 a mezzogiorno dalle 14 alle 16. Una volta ricevuta la comunicazione, sarà ATS a fissare l'appuntamento per eseguire gli accertamenti in arco di 48 ore. Da oggi, ha spiegato l'assessore regionale welfare Giulio Gallera, 5.000 tamponi al giorno in più rispetto ai 7.000 medi realizzati in questo periodo. Da giovedì, aggiunge l'assessore, a Malpense i viaggiatori potranno fare il test virologico.